La crisi di governo scalda la politica marchigiana, il pentastellato Fede, noi sorpresi da Draghi, i latini, i cittadini chiedono stabilità, appello del PD in vista del voto di mercoledì. Violentata dal branco fuori da un locale denuncia shock di una minorenne sanbenedettese, indaga la polizia a Fabriano, nove giovani denunciati per le maxi risse ai giardini Margherita. Un decesso e 3.000 nuovi positivi in regione, il Covid non molla la presa neanche in estate, vaccini, quasi 9.000 prenotazioni per le quarte dosi, caos aeroporti tra overbooking e contagi. L'Ascoli prende Simic, stasera il calendario, Fall saluta la Samb, parlerò al momento giusto, si separano le strade dell'attaccante e il club rosso-blu. Bentrovati all'edizione serale del nostro TG Marche, in apertura l'avete sentito dai titoli, la crisi di governo che scuote anche la regione Marche, prime reazioni dal Partito Democratico che invita a restare uniti per evitare il caos. Mangiolardi dice che c'è in gioco il futuro dell'Italia e parla anche il presidente del Consiglio regionale latini chiedendo stabilità. Vediamo il servizio della nostra Stefania Serino. È la tempesta perfetta, ma il voto di mercoledì sarà determinante. Se il Parlamento certificherà l'impossibilità di rimettere insieme i pezzi del governo di larghe intese, Mario Draghi, già salito al colle ieri con l'intenzione di dimettersi, potrebbe tornare dal capo dello Stato per gettare definitivamente la spugna. A quel punto non ci saranno colloqui che tengano. Il presidente della Repubblica firmerà il decreto di scioglimento delle Camere e si andrà al voto, probabilmente a fine settembre al massimo a inizio ottobre. La giornata di ieri ha dato una scossa non da poco alla politica italiana. Giuseppe Conte ha detto che il Movimento 5 Stelle è pronto a votare la fiducia al Premier. Lega e Forza Italia temporeggiano mentre la Meloni preme per il staccate la spina. Il Partito Democratico spera nella ricomposizione grazie alla mediazione di Mattarella e lancia un appello anche dalle Marche alla responsabilità dei partiti. Voglio cogliere da una giornata così tragica due elementi. Intanto l'approvazione del decreto aiuti, quello che mette nelle condizioni almeno nella prima fase di dare un respiro alle famiglie alle nostre imprese. Due, il rispengimento delle dimissioni da parte del nostro Presidente della Repubblica. E quindi il passaggio che sarà inevitabile all'interno del Parlamento mercoledì prossimo è dove spero che ci sia quel senso di responsabilità. Un appello a cui si unisce anche il Presidente del Consiglio regionale delle Marche, Dino Latini. La crisi di governo è davvero un punto di non ritorno in un momento così drammatico per l'Italia. Non sta a me giudicare la posizione scelta dei partiti, in particolare di chi ha determinato la crisi stessa. Sta invece indicare una posizione in quella della comunità marchigiana che chiede con grande insistenza stabilità, sicurezza, rappresentanti in grado di combattere quelli che sono i problemi veri delle persone, della gente, di chi ha bisogno. Resta forte la prensione anche se sul fronte export la Regione tiene bene. Ieri con l'annuncio delle dimissioni di Draghi, Piazza Affari ha subito una brusca caduta e lo spread è schizzato a quota 220. I prezzi dei beni di prima necessità continuano a crescere, tra caro energia ed inflazione resta tutta l'incertezza dell'autunno caldo che ci attende. E continuiamo ad ascoltare le reazioni stavolta del Movimento 5 Stelle. Dice il senatore pentastellato Giorgio Fede, noi abbiamo avuto un comportamento più che responsabile. Sono rimasto sorpreso dalla scelta di Draghi di andare da Mattarella. E poi aggiunge la nostra nazione ha bisogno di stabilità e risposte certe. Sentiamolo al microfono della nostra Stefania Serina. Allora, senatore, una crisi di governo giunta al culmine nella giornata di ieri in vista del voto in Parlamento di mercoledì. Intanto vi sentite in qualche modo responsabili di quel che sta accadendo? Ma io direi che il comportamento del Movimento 5 Stelle è stato fra i più responsabili di quello che è accaduto negli ultimi periodi e in questi 17 mesi. Noi siamo stati sempre corretti e leali. Abbiamo presentato un documento a Draghi con le indicazioni di quelle che erano le nostre necessità e le necessità degli italiani soprattutto. E sulla base di quello abbiamo agito. Quindi un discorso trasparente, consapevole, anticipato. Per cui, anzi, sono rimasto meravigliato personalmente della scelta di Draghi di andare da Mattarella. E Mattarella, giustamente, ha rimandato Draghi al Parlamento. Cosa significa però l'astenzione dal voto sul decreto aiuti? L'astenzione significa che quando un documento non viene condiviso con le forze politiche che hanno sensibilità differenti, è normale che se uno non possa esprimere una opinione possa astenersi. D'altronde questa è una Repubblica parlamentare, non presidenziale. Lo debbono tenere presente tutti quanti. Quindi bisogna condividere e ragionare con le forze politiche che fanno parte del Governo. Continuerete a dare fiducia al Governo Draghi oppure no? Noi abbiamo chiesto delle risposte. Aspetteremo le risposte, non abbiamo nessuna preclusione, non facciamo giochini sulla pelle degli italiani. Siamo consapevoli, e questo abbiamo detto, che stiamo per vivere l'autunno più caldo di questi ultimi anni per le varie vicende dalla crisi russa-ucraina. Quindi ci comporteremo con il senso di responsabilità che c'è sempre distinto. Quindi sarebbe utile andare al voto in autunno oppure mantenere la legislatura fino alla primavera? Io non la vedo come una questione di poltrono. Io penso che la nostra nazione in questo momento ha bisogno di stabilità, sicuramente sì. Ha bisogno di risposte certe, sicuramente sì. Ha bisogno di trovare soluzioni per gli italiani. Quindi noi dobbiamo lavorare per questo. Noi siamo a disposizione su questo. Ed ora la cronaca da San Benedetto, violentata dal branco fuori da un locale. La denuncia a shock di una minorenne sanbenedettese. è il secondo caso di questa estate su cui indaga il commissariato. Accerchiata e violentata da un gruppo di ragazzi all'uscita di una discoteca a Portodascoli. Questo quanto denunciato da una diciassettenne del posto che all'alba si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale di San Benedetto in forte stato di shock. La giovane avrebbe parlato di circa cinque persone che avrebbero approfittato di lei. Un episodio molto grave sul quale stanno indagando gli agenti del locale commissariato. Gli investigatori, informata la procura scolana, si sono messi subito al lavoro per ricostruire l'intera vicenda che risalirebbe però alla notte precedente, quella tra mercoledì e giovedì. I risultati dei primi accertamenti medici sarebbero compatibili con il racconto della giovane che avrebbe fornito anche l'identikit dei componenti del branco. Ovviamente la versione della vittima andrà verificata in ogni dettaglio data la gravità delle accuse, anche per questo la polizia visionerà le immagini della videosorveglianza interna ed esterna al locale, oltre ad ascoltare alcuni amici che erano usciti con la ragazza quella notte. Si tratta della seconda denuncia per violenza sessuale da inizio estate nella riviera delle Palme. Lo stesso commissariato indaga su un altro episodio avvenuto in zona Ballarin a fine giugno, quando una giovane ha raccontato di essere stata aggredita all'interno della pineta dei Funai. Era l'una di notte e stava tornando a casa dopo il lavoro, quando sarebbe stata afferrata da dietro da un uomo che la seguiva. Data la delicatezza della vicenda, il procuratore capo Umberto Monti sta seguendo di persona i due casi e vige il massimo riservo sullo sviluppo delle indagini. Continuiamo con la cronaca da Fabriano. Le maxi risse ai giardini Margherita. Tre settimane dall'accaduto sono state denunciate nove persone. Tutti giovanissimi, quali rischiano anche di ricevere daspo urbano. Matteo Porfiri. Sono nove i denunciati per le due maxi risse ai giardini Margherita di Fabriano avvenute durante le notti del 24 e 25 giugno scorsi con il coinvolgimento di circa 50 giovani complessivamente. Risse che sarebbero state originate da avanze di alcuni di loro verso la fidanzata di uno e dell'altro gruppo e che hanno visto coinvolti i ragazzi residenti tra Fabriano e Sassoferrato. A condurre le indagini gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza cittadino coordinati dal dirigente Moira Pallucchi. Il questore di Ancona, Cesare Capocasa, aveva disposto la chiusura del locale che è stato interessato dagli alterchi per 20 giorni. Una decisione indispensabile per agginare nell'immediato gli allarmanti episodi di violenza tra giovanissimi che si erano verificati appunto per due sere consecutive che hanno creato grave allarme nella cittadinanza, specifica una nota diffusa dalla polizia. Da quanto ricostruito dagli investigatori, i presunti responsabili, tutti stranieri di età compresa tra i 20 e i 25 anni, si sono affrontati colpendosi con calci, pugni e cinghiate, utilizzando anche l'arredo del locale, sedie e tavolini come strumento di offesa. Tra i partecipanti alle risse alcuni pregiudicati per reati contro la persona e contro il patrimonio. Nei loro confronti, oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria, il questore adotterà i necessari provvedimenti amministrativi di prevenzione per evitare il ripetersi di situazioni analoghe, possibili quindi anche dei dasporbani. Parliamo ora di Covid. Da martedì ad oggi quasi 9.000 prenotazioni di quarte dosi nelle Marche. Intanto nelle ultime 24 ore il tasso di incidenza è diminuito, è arrivato a 1.349. I nuovi positivi sono invece 2.964 su 7.250 tamponi analizzati. Si registra anche un decesso che fa salire il numero dei morti da inizio pandemia a 3.963. In merito ai ricoveri negli ospedali ce ne sono 9 in più rispetto a ieri. E sappiamo che sono partite appunto le prenotazioni, ma anche le vaccinazioni delle seconde dosi booster anche nelle Marche. La provincia di Macerata si sta organizzando per i turni degli hub per coprire le varie zone. Ci fa il punto nel servizio Daniela Gurini. Sono iniziate in questi giorni le prenotazioni per la somministrazione dei vaccini, sia quarta dose che booster, rivolti a soggetti fragili e over 60. E nella provincia di Macerata si è presentato un numero inaspettato di persone giunte nei centri senza aver prenotato. L'Asura ha immediatamente predisposto l'incremento delle disponibilità per raggiungere un maggior numero di vaccinazioni. Inoltre sono state programmate le turnazioni degli hub, i centri vaccinali, in tutta la provincia, dal mare all'entroterra, per far fronte alle numerose richieste, da qui alla prossima stagione autunnale. Abbiamo avuto un carico di richieste e tante persone sono venute senza prenotazioni. Soprattutto si è verificato a piedi riba un aumento e un incremento notevole proprio di persone che sono venute senza prenotazioni. La pianificazione è stata fatta aumentando soprattutto le prenotazioni e le prenotazioni sono 150 considerando sia il mese di luglio che il mese di agosto. Dunque la vaccinazione e la dose booster sono partite, la pratica ormai è avviata fino alla fine dell'estate anche per l'inizio dell'autunno? Esatto, esatto. Fino a fine estate e inizio autunno, poi nell'autunno bisognerà incrementare in base all'evoluzione sia della situazione epidemiologica e sia del piano vaccinale. L'area Vasta 3 ha riaperto gli hub consueti in Macerata, Civitanova e poi nell'entroterra Camerino e Matelica? Sì, gli hub veramente sono rimasti sempre aperti, sia quello di Civitanova, Macerata, Camerino e Matelica che si alternano. L'hub di Civitanova è aperto il martedì e il venerdì dalle 9 all'1, invece quello di Macerata il lunedì, mercoledì e sabato con lo stesso orario e il giovedì si alterna Camerino con l'hub di Matelica. C'è un consiglio che vuole dare a coloro che ancora non si sono prenotati e che stanno ragionando sul fatto di farlo? È necessario che soprattutto le persone di una certa età, sopra i 60 anni, gli 80 anni, è necessario che facciano la vaccinazione. Se hanno fatto chiaramente le due dosi e quindi il ciclo primario è necessario fare la terza dose, se hanno fatto la terza dose possono fare la quarta dose dopo 120 giorni, anche dopo l'infezione da Covid. Basta che siano passati i 120 giorni. Ed ora parliamo del caos aeroporti che sta riguardando un po' tutta Europa. Di riflesso anche l'aeroporto di Falconara, l'amministratore delegato dello scalo internazionale di Ancona, dice ci salviamo nonostante le situazioni di overbooking che non fanno trovare ai passeggeri posti sull'aereo rimanendo spesso a terra. E poi c'è anche il problema del personale colpito da Covid, il 10% degli addetti è rimasto infatti contagiato. Sentiamoci Romontanari. Mancanza di personale, sciopri, nuovi timori per il Covid. L'estate del traffico aereo sta andando avanti in emergenza, causando numerosi disagi e passeggeri tra voli cancellati e ritardati. Una situazione che coinvolge praticamente tutta Europa e che fortunatamente non riguarda l'aeroporto internazionale di Ancona. Noi viviamo una realtà un po' diversa da quello che si sta sentendo in tutta Europa. Noi siamo una piccola realtà, un aeroporto piccolo, quindi diciamo noi abbiamo voli point to point, da una destinazione all'altra, quindi non raccogliamo traffico di hub o comunque di proseguimento. E quindi i voli sono molto pieni, siamo molto contenti, questo è molto positivo, arrivi tantissimi, tutti stranieri. Possiamo scongiurare che il caos che si registra in tutta Europa qui non esiste? No, non c'è, ci sono sempre situazioni di overbooking, perché poi i voli sono pieni, ma pieni a tappo, quindi qualche biglietto in più le compagniere l'hanno venduto. E quindi questo crea qualche problema di sapore per un viaggiatore che sta per partire per le vacanze e non si trova il posto sull'aereo. Che significa a livello di numeri i voli pieni? I voli pieni, ieri per esempio è partito un dessert per Tirana che porta 220 posti, 220, sono stati venduti 230, 240 biglietti, ci sono 10, 20 persone che rimangono a terra. Situazione meno tranquillizzante allo scalo di Ancona per il personale contagiato. Noi siamo stati abbastanza colpiti, abbiamo sei persone, quindi abbiamo circa il 10% dei nostri addetti che sono in covid e per adesso ci amorreggiamo. Però quando questo numero diventa più grande diventa difficile. Noi abbiamo avuto la scorsa settimana alla sicurezza tre persone che non si sono presentati perché sono malati di covid e questo ha creato un grosso disagio qui. Insomma si prevede un'estate da tutto esaurito. Un'estate da tutto esaurito e siamo tutti contenti. E ora un po' di leggerezza in riviera a San Benedetto del Tronto. Tutto pronto per l'RDS Summer Festival al Via da questa sera con il concerto di Francesco Gabbani. Modifiche alla viabilità e grande fermento per l'allestimento del villaggio della musica. Sentiamo Pierpaolo Flammini. Tutto pronto per l'RDS Summer Festival a San Benedetto. Si inizia oggi venerdì con il concerto di Gabbani alla Pineta del Campo Europa. Poi sabato spazio anche alla musica in spiaggia nell'area Ex Camping con un DJ set. Quindi sabato sera con Achille Lauro sempre qui alla Pineta. Ancora domenica in spiaggia all'Ex Camping. Infine gran finale domenica sera con J-AX e un DJ set. Tanti consigli per divertirsi ma anche per gli spostamenti. Ci saranno delle modifiche alla viabilità e ci sono dei consigli per coloro che si recheranno in queste due aree. Si interverrà naturalmente in prossimità dell'evento. La modifica sostanziale per quanto riguarda la viabilità è la chiusura della corsia ovest del lungomare da via Virgilio a via Tedeschi. Per il resto sarà disposto un divieto di sossa su tutto il perimetro della manifestazione quindi via Sforza e via Tedeschi appunto e il lungomare. Questo ovviamente per l'evento serale insomma quindi l'evento inizia dalle 19 quindi dalle 17 in poi 17-18. Poi ovviamente sarà anche responsabile sul posto a valutare la situazione. Non possiamo escludere esempio che sia necessario temporaneamente predisporre altre chiusure però in linea di massima l'unica chiusura è quella appunto che ho indicato della corsia ovest del lungomare. Vedremo, è la prima volta a mia memoria che si utilizza quel contesto per eventi del genere vedremo come funzionerà anche la viabilità, l'invito consueto cioè il primo luogo di non tentare di arrivare al ridosso dell'evento perché comunque ci sarà il divieto di sosta come dicevo intorno a tutto il perimetro ci sono tra l'altro spazi di sosta non lontani dall'evento come in zona stadio o palazzetto dello sport preferibilmente muoversi naturalmente con bici o trasporto pubblico e per il resto staremo a vedere insomma credo che tutto possa andare per il meglio siamo anche curiosi noi vista la novità insomma di valutare poi la situazione. Ed ora parliamo del progetto Pizze di Marca che unisce il prodotto italiano per eccellenza con i migliori prodotti enogastronomici e locali come condimento. Donatella Lappa. È stata presentata presso la pizzeria Mamma Rosa di Ortezzano la seconda edizione di Pizze di Marca un progetto di Linfa azienda speciale di Camera Marche che vede insieme i pizzaioli delle cinque province fare squadra in un circuito di eccellenza. La Camera di Commercio ha creduto tramite la sua azienda ma anche direttamente a questo progetto che è un progetto che ha iniziato in provincia di Pesaro 12 anni fa e vedeva solo un territorio quindi solo la provincia di Pesaro nel momento che la Camera di Commercio è diventata unica delle Marche rispetto alla valorizzazione e alla promozione del nostro territorio ha individuato in quel progetto uno degli elementi per poter valorizzare il territorio, i prodotti eccellenti che abbiamo dell'agroalimentare e le pizzerie che tengono molto a quello che è la valorizzazione del territorio, a quello che è le produzioni diciamo stagionali, le produzioni locali per far sì che siano una ulteriore attrazione per il nostro turismo. Si partirà il 25 agosto e si terminerà il 18 novembre con 32 serate gourmet in cui ad ogni pizzeria aderente sarà dedicata una serata in cui ci si aspettano tanti giovani che intorno ad un prodotto popolare ed economicamente accessibile come la pizza costruiscono momenti di aggregazione e convivialità. Ogni provincia ha le sue peculiarità, i suoi prodotti DOP, IGP, STG, Slow Food, Presidi Slow Food e soprattutto anche tipici e quindi ogni provincia ha la sua identità, identità di prodotto. Oltre a questo c'è anche naturalmente le farine e ci sono tutti i prodotti marchigiani. Quindi l'uso delle farine, l'uso della fior di latte, l'uso dell'olio extravergine d'oliva, l'uso dei prodotti tipici marchigiani e alla fine si ha veramente un prodotto finale esattamente proprio marchigiano. Ed è un'espressione importante perché su un prodotto come la pizza, che è un prodotto chiamiamolo popolare, riusciamo ad arrivare anche ai giovani e far conoscere i nostri meravigliosi prodotti. Siamo allo sport, in Serie B Lascoli sistema la difesa, tutto fatto per Simic in arrivo da Lecce. Intanto è arrivato anche il giorno del calendario della Serie B, sorteggio questa sera a Reggio Calabria. Altro colpo in entrata per Lascoli. I bianconeri infatti hanno chiuso l'accordo con il Lecce assicurandosi il difensore centrale Lorenzo Simic. Un arrivo che chiude quindi le operazioni di mercato in entrata legate alla terza linea. Con le coppie Salvi Donati, Botteghin Simic, Bellusci Quaranta e Falasco Giordano infatti il reparto arretrato è al completo. Alla fine insomma Ascoli e Lecce hanno trovato l'accordo economico per il prestito secco del forte difensore centrale che non rientrava più nei piani di mister Baroni ma che ha voluto anche precise garanzie economiche prima di approdare in bianconero. Simic era stato strappato dalla Sampdoria nel 2017 all'Aiduk Spalato, una delle squadre più importanti del campionato croato per un milione e mezzo di euro. L'avventura italiana è stata vissuta però tra alti e bassi. Prima il passaggio all'Empoli con 15 presenze e 3 gol, poi il trasferimento alla Spal con 14 presenze e un gol, poi a gennaio ecco la cessione in prestito in Patri al Rieca dove però non ha giocato mai e alla fine ha accettato di trasferirsi in Slovacchia al Dunajska Streda. Nel 2020 eccolo volare in Polonia al Zegel Belubin dove è rimasto fino al gennaio 2022 quando ha firmato un contratto di due anni e mezzo con il Lecce, scadenza giugno 2024. Con i giallorossi quest'anno ha disputato sette gare. Intanto c'è grande attesa per il sorteggio del calendario del nuovo campionato di Serie B che avverrà stasera alle 20.30 a Reggio Calabria. Sarà il primo atto di una stagione lunghissima che comincerà con l'anticipo di venerdì 12 agosto. Ora andiamo in Serie D. La notizia era già nell'area da qualche giorno ma adesso sembra ufficiale. Amet Fall non sarà più un giocatore della Samb. Le parole dell'attaccante che ha affidato ai propri canali social non lasciano molto spazio all'immaginazione. Game over scrive Fall accompagnando la frase con dei cuori rosso-blu. E poi in un altro post il calciatore scrive non ho parole. Ringrazio tutti per l'affetto. Al momento giusto parlerò. Vi amo tutti ugualmente. Fall nella scorsa stagione ha totalizzato 23 presenze in campionato realizzando 10 gol. E a proposito di Samba andiamo a sentire il servizio del nostro Pierpaolo Flammini con le altre possibili. Invece riconferme le ultimissime per quanto riguarda l'iscrizione al campionato di Serie D. Una foto che potrebbe valere più di mille parole, quelle che da parte della società rosso-blu mancano dalla vittoria dei play-off di Trastevere. Nell'ufficio romano del presidente Renzi, con le magliette ufficiali della Samba incorniciate al muro, ecco il direttore sportivo Cozzella, il confermato allenatore Alfonsi, il preparatore dei portieri su Blue Doc Visi. Come a dare la certezza dell'armonia tra presidenza e staff dirigenziale e tecnico, nonostante l'addio al direttore generale Faccioli. Sorrisi anche perché finalmente, come preannunciato da Vera TV, sono stati pagati i rimborsi spesi ai due ex allenatori donati Antonioli. Bonifici spediti il 14 luglio, non per mancanza di liquidità ma per scelta deliberata. E' quindi tutto pronto per l'iscrizione, liberatorio dei pagamenti disponibili, tassa di iscrizione di 16.500 euro e fideosione di 31.000. Sul fronte delle riconferme, tra i nomi messi sul taccuino da Cozzella, manca solo quello del difensore Tomas. Ma il rallentamento dell'operazione potrebbe dipendere dal fatto che il croato è al momento in vacanza proprio in patria. Quasi possibile, invece, trattenere il portiere Noflak. Lui stesso accetterebbe di restare in Italia solo in Serie C, ma vanta richieste anche dalle categorie superiori in Austria. E la possibilità di avvicinarsi alla famiglia dovrebbe prevalere. Sempre più difficile, invece, il bis per Fall. Qualcosa si è inclinato con Renzi nei giorni più agitati del mese di giugno. Ma la crepa potrebbe aver coinvolto anche esponenti dello spogliatoio. La partenza di Noflak spingerà la Samba a giocare con due portieri under, ai quali aggiungere preferibilmente due terzini e un centrocampista. Uno dei due difensori esterni sarà Alboni, che pure deve riprendersi dal grave infortunio del finale di stagione. Mentre lì si sarebbe la figura ideale come jolly tra centrocampo e attacco, anche se il giovane è in attesa di eventuali chiamate dalla Serie C. Un altro attaccante, l'incalzi over e gli ulteriori under dovranno arrivare nei prossimi giorni, prima del ritiro di Sarnano del 24 luglio. Da quel momento fino all'inizio del campionato ci sarà tempo per perfezionare il gruppo di mister Alfonsi. Non ci sono aggiornamenti per questa edizione del TG Marche, è tutto. Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Vera TV. Arrivederci.